Ciao ragazzi, benvenuti all'altra parte di Wifi Battaglia Scusate se insomma sono un po' davanti Sono qui, sono qua davanti a voi, non so, accanto Non si sta bene il fonino, giri a percorsi con la 3 Come vedete ho raggiunto gli 8000 Gli 8000 punti Infatti ho fatto un po' un po' di dolce e d'ora Se avete sapere c'è anche mio fratello piccolino Oh panno Ciao ragazzi Questo mio fratello L'altro mio fratello piccolo Da peste Eh non dire così Questa comunque è la prima parte da battere un file Se volete sapere lo amare fatemi che un tibista non vuole stelo E io non... Vabbè non sono già Io faccio parte del tibio ora ma anche del quattro l'S Eh sì.. NICO 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 Eh... L'ho fatto di tutti degli anteriore tutti del coin Un sacco tra la secche Doppiavole No TB e doppiavole F No NICO 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 non permetterti di avvicinarti sullo greg no ah troppo carli ma questo mi sta antipatico vai a posto possiamo dedicare uno di questi video a qualcuno non sempre dobbiamo dedicare video vabbè decido io quando dedicami non ho mai dedicato no avvicinati quali che si avvicina mica si scende no no per questo volo colpire ma non ce l'ho fatta no Greg è troppo cornuto mi sta antipatico morire no ammazzo questo qua no lo ammazzo grazie lo sto perdendo come un matrimonio infatti ho pochissimi oh oh dai ho preso ma la 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 forse possiamo vincere ok è finito di non, no ma no 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 abbiamo perso uffa ora incomincia ora incomincia ora incomincia la sfiga ora incomincia la sfiga finora che non sto facendo video tutto bene, incominciamo sempre ora incominciamo già incominciamo bene oh che palle madò, nato 99 9.345 palloncini o per considerare un po' più son sfigato potrebbero essere un hacker perchè nelle battaglie anche quelli con i più normalissimi punti sono hacker infatti un giorno incontrei uno che ho usato solamente le stelle come codice proprio un trucco davvero scemo però vinci lo stesso ma aveva 8500 o 7700 e no, non riesco, non è peccato va bene e Kc stava in squadra con me quindi non penso che perderemo perchè Kc quella la è colluta ma è anche forte c'è proprio forte quindi insieme possiamo anche vincere dove è quello dove è quello di 9000 ah eccolo ma ho un punto lo già fa due che è uno ok poi poi no molti di 9000 sono hacker perchè ehm non si prendono mai allora me la detesto io la detesto di scolandia sì me la detesto di biscotti no non me ne frega niente io la detesto io la detesto questo percorso molti biscotti no non posso ho tanto la banana è visto quelli non mi sono tutti a che hanno tolto però l'ho tolto che culo no o o ma o non comincia la sfiga ma 2 punti che ho fatto avvenire senso la merda di oggetti che ho la merda di oggetti che ho la merda di oggetti che ho sono proprio delle merda sono vaffanculo 4 apposto mostro lontano se 3 adesso è apposta oh non lo sapevo io lo sapevo ma perchè non usciamo mai a vincere oh tu se il pan ma dai mi sono parato non c'è da in avanti guscia rosso posto per pararmi per erano che qualcuno come attorno 300 senza che la cura le per il un che questo costo al post non tolto molto molto sconosci forse si scommerà su strumento non ho fatto al caso del primo ma non è assai 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 è il KC Noctum è una 120 ma non è assai eh non è 26 perché a parte che è più una squadra e poi stavo anche per il comune quindi non c'è proprio problema ok mi fratello se ne va se ne è andato KC con l'uomo niente oh mannaggia ma Pasqua non ci sarà più tranquillità ora non si si vede male è stato proprio una stronza scusate il termine no ma un pochino più sopra ma posso se capita a mescolare ma ecco se capita a mescolare mi sparo non è mai che non è capitato ma posso morire ecco ecco e ora devo stare in silenzio perché stare zitto mi porta più fortuna quindi buona emisione solamente però in silenzio perché sto in silenzio perché ho più fortuna è finito di rompere il tuo eh no non ho ancora poi l'avevo schiacciato vabbè allora non lo so perdere a quello là anche se non vale proprio è completamente esenerale questo anzi a me non avvicinarsi proprio perché anche poi se passano solamente i buoni questo è un consiglio che vi do a tutti a meno che non siete la gossia anche voi e vabbè eh non colpite a colonna perchè è tutto inutile aspetta di non si diceva non c'era questi gossaro non c'è l'altra ah no ah no aveva l'altra ecco perchè però sono riuscita a colpire il brano io sono scorsi e una due ah vabbè 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 con avete ok 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 no nel mio treno almeno un conto come un certo il mio un proposito un po' subito neanche tanto perchè mi dico che sono le 11 non ho detto che devo stare zitto non c'è 20 di sera non è finita a cui dover sta non super no 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 apposto grazie al cielo mi sono salvato se che culo non sa se buono non si un po' non mi sa ok abbiamo perso scusa mi parla non peccato abbiamo perso secondo più 18 posso benissimo dopo questa parte che un po' ha perso e un po' ho guadagnato vabbè due batteri perso più perso che un po' ha guadagnato ci vediamo alla seconda parte ciao 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 ciao